Senatore Centinaio, come commenta il decreto scuola appena approvato dal governo Letta? Decisamente in modo negativo, perché il commento negativo arriva direttamente dalla maggioranza. La prima intervenire è stata l'onorevole Centemero, che ha detto che è un documento da riscrivere. La seconda intervenire è stata proprio il ministro, che ha detto che bisogna fare delle correzioni. Noi abbiamo osservato e stiamo analizzando appunto questo decreto, stiamo cercando di capire in che direzione andare, su che proposte fare in modo da modificarlo nel miglior modo possibile, però stiamo iniziando a vedere che sui precari non è stato fatto nulla, sui TFA, che sono sempre dei professori o aspiranti professori, la stessa cosa. Non è stato fatto niente per quanto riguarda l'edilizia scolastica, sappiamo benissimo che ci sono scuole in pessime condizioni. Per quanto riguarda il bonus dell'acquisto di libri, persino i sindacati si sono schierati contro questa proposta, perché non dà delle indicazioni specifiche, è solamente fumo negli occhi e propaganda che viene messa agli occhi dei cittadini e ci sono anche altre situazioni che non ci rendono comunque tranquilli. È un provvedimento che, come quello sulla cultura, ha solamente lo scopo di fare solo ed esclusivamente propaganda e un'altra cosa che ci lascia anche abbastanza perplessi sono a questo punto anche le dichiarazioni del Ministro che anche in tema di immigrazione ci dice che sull'immigrazione gli studenti immigrati sono una risorsa, che sta creando anche in questo caso dei malumori tra tutti coloro che ritengono che una risorsa siano gli studenti in generale e non solamente quelli extracomunitari.